Tanto Wagna per tutti ragazzi, sono Pazquiz ed oggi torniamo qui sul canale di Wagna per la seconda parte di Spore però ragazzi prima di cominciare vi volevo far vedere un piccolo segreto che gli istitutori del gioco hanno inserito all'interno del menu principale di Spore infatti se noi faremo girare la galassia con la frecetta a destra o sinistra della tastiera più e più volte vedremo che a un certo punto a centro della galassia usciranno le foto degli istitutori quindi vi volevo far vedere questa cosa che non è nulla di che ai fini del gioco non ha nessuna importanza però ho deciso di farvela vedere quindi prima di cominciare a parlare della fase che affronteremo quest'oggi in questo video vi volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno guardato il video che hanno messo mi piace perché ragazzi 1700 visualizzazioni possono sembrare poche all'occhio di un youtuber che ha molti iscritti però per me sono davvero tanti e questo accadrò grazie a voi e grazie allo staff di Wagna quindi grazie veramente non smetterò mai di ringraziarvi di ringraziare tutti per questa grandissima occasione che mi avete dato dopodiché volevo parlare appunto proprio insomma un po' di me cioè ovvero vi invito a passare dal mio canale ho visto che molti già lo hanno fatto e si sono iscritti e questo mi ha fatto veramente moltissimo piacere perché comunque anche ho inviato questi video a Wagna insomma anche per farmi un po' conoscere no? perché in questo periodo è molto difficile emergere diciamo dalla massa degli utenti, degli youtuber emergenti diciamo e quindi se magari volete vedere un'altra serie di spore o comunque giochi di questo genere per ora non ci sono però arriveranno quindi ragazzi vi invito a passare sul mio canale e presto arriveranno giochi di questo tipo comunque ora basta andare dal mio canale perché non voglio passare tutto il video a pubblicizzarlo quindi sicuramente vi sarete accorti che non ho ripreso esattamente dall'ultima volta da cui l'ho lasciato perché questo? perché siccome avevo tanta voglia di fare, ero tutto euforico del successo che aveva avuto il mio primo video ho deciso di mettermi in fretta e furia subito al lavoro a fare un nuovo video però si sa no, la fretta non aiuta e infatti ho fatto un mega fail e non ho registrato niente per ben due volte questo quindi io sono stato a parlare per ben due volte su un video che non ho registrato quindi sono andato un po' avanti insomma ho cambiato un po' il nostro amichetto qui però neanche più di tanto insomma poi nel video vedremo anche alla fine l'editor come funziona e tutto comunque adesso basta parlare di altre cose andiamo a presentarvi insomma questa nuova fase la seconda fase del gioco, la seconda delle 5 fasi che vi avevo detto già nel primo video ovvero la fase animale nella fase animale come vedrete finalmente arriviamo sulla terra e cominciamo a muovere i primi passi sulla terra come quando eravamo delle cellule all'inizio siamo molto deboli infatti vedrete in questo video non attaccherò nessuna specie ma mi alleverò soltanto con una perché inizialmente è molto complicato fare le guerre e tutto il resto perché quasi sempre soccombete voi e nella fase animale gli obiettivi sono due appunto l'obiettivo diciamo è sempre sviluppare il cervello guadagnando punti esperienza i punti esperienza si possono guadagnare in due modi o attaccando le altre specie e quindi estinguendole oppure socializzando con esse come vi farò vedere nel video e alleandovi con loro in tutti e due i casi riceverete un certo numero di punti esperienza che quindi vi aiuterà poi ad andare avanti e a passare alla prossima fase però la fase animale ad un occhio insomma non molto attento può sembrare un po' noiosa perché comunque bisogna fare sempre questo per un po' di tempo però in realtà diciamo gli stripperi del gioco hanno inserito dei piccoli segreti all'interno di questa fase che cosa sono questi piccoli segreti? vado subito ad illustrare diciamo il primo è sicuramente sono sicuramente i titani mi sembra che si chiamino così non sono sicurissimo che sono molto rari da incontrare che cosa sono i titani ragazzi? sono degli animali enormi sono veramente molto grandi e possono rappresentare sia un pericolo ma possono essere anche innocui infatti decideranno loro se attaccarci o no ripeto sono molto rari da incontrare però si possono incontrare e come da dove vengono questi titani diciamo? i titani vedremo poi nei video successivi quando arriveremo alla fase spaziale che noi avremo uno strumento che sarà in grado di potenziare degli animali che si trovano su un pianeta colonizzato da noi e quindi non ha alcun senso farlo perché non ci darà nessun aiuto però potremo fare questo tipo di potenziamento e quindi far diventare questo animale enorme un altro segreto o comunque mistero che magari a un giocatore che alla prima volta che ci gioca può sembrare veramente molto bello e misterioso sono all'arrivo di ogni tanto delle navicelle spaziali sulla terra sulla nostra terra infatti noi potremo vedere anche questo ripeto è molto raro non succede sempre potremo vedere delle navicelle spaziali di qualche cività aliena molto più evoluta della nostra ovviamente che arriva sul pianeta e o ci può o distruggere oppure anche essa può essere innocua a proposito di segreti volevo diciamo spoilerare per farvi crescere la curiosità in voi in questo gioco di una cosa che andremo ad incontrare quando arriveremo nella fase spaziale e sto parlando di crocs i crocs che cosa sono ragazzi i crocs sono una civiltà spaziale aliena che è molto molto bellica infatti è nemigliato di tutto l'universo e tutte le civiltà di tutto l'universo hanno paura di esse praticamente i crocs sono delle sembrano dei sono dei pupazzetti piccolissimi e non sono fatti di carne ma di parti non si sa cosa non si sa bene sono avvolti nel mistero appunto questi crocs e la prima volta che li incontreremo saranno molto ostili con noi infatti ci attaccheranno e il nostro scusate il nostro rapporto con loro sarà mi sembra di meno 40 e la faccetta che insomma simboleggia il rapporto con una specie sarà rossa arrabbiata come una belva come una iena diciamo e quindi sarà molto difficile diciamo avere dei rapporti con questa civiltà e si possono scegliere tre vie diciamo per da intraprendere contro questi crocs la prima è di rimanere indifferenti ovvero di lasciarli stare e quando vi attaccano di difendervi soltanto la seconda è di attaccarli ve lo sconsiglio veramente tanto perché sono poverano tutta la galassia che si trova vicino al centro della galassia appunto ma una volta io ho provato insomma per vedere così come come poteva essere sconfiggio questi crocs è impossibile stanno su io penso almeno mille pianeti quindi bisognerebbe distruggere mille pianeti loro e è difficilissimo perché poi hanno delle navicelle potentissime la terza la terza cosa invece sarebbe di stringere un'alleanza con questi crocs si è vero ho detto prima che è molto difficile avere dei rapporti con essi però è possibile faccio una premessa io ci sono riuscito ma con i trucchi perché si in questo gioco ci sono i trucchi però non è bello usarlo perché comunque rovina è un gioco difficile fatto senza trucchi e questo lo rende ancora più bello però se poi se uno usa i trucchi io penso questo in tutti i giochi si rovinano i giochi con i trucchi perché non si sceglie la via più facile e così non c'è divertimento quindi io ci sono riuscito con i trucchi e praticamente si può diventare alleati facendo favori per loro distruggendo dei pianeti perché si potranno anche distruggere dei pianeti attaccando delle civiltà che vogliono loro dandovi moltissimi soldi per questo dicevo servono i trucchi perché c'è un trucco per i soldi senza il quale sarebbe impossibile allearsi con i crocs però questa alleanza con i crocs quindi ha due a due lati diciamo uno positivo e uno negativo quello positivo è che siete alleati con la civiltà più potente della galassia quindi se qualsiasi problema avete ve lo risolveranno loro il lato oscuro dell'altro lato della metaglia diciamo è che appena stringerete l'alleanza con i crocs tutti gli altri popoli della galassia dico tutti entreranno in guerra con voi e questo capite insomma che non è una cosa molto buona perché ok che siete alleati con i popoli più importanti il popolo più potente della galassia però avere contro tutti gli altri è un problema diciamo quindi delle tre vie diciamo che vi ho spiegato secondo me la migliore è la prima ovvero essere indifferenti e lasciarli stare magari se vi attaccano così vi difendete comunque questo lo vedremo tutto nei prossimi video se ovviamente vi piaceranno se ovviamente vi piacerà questo video e lo staff di Wanya mi darà il permesso insomma di continuare a pubblicare questi video sul loro canale dopodiché volevo parlarvi dello stile dei video perché questo perché ogni fase su sport dura dai 40 anche ai 60 minuti e quindi fare ogni video da 10 minuti su una fase verrebbero migliaia e migliaia di video e quindi posso capire che un po' potrebbero annoiare quindi io vi chiedo a voi ragazzi scrivetelo nei commenti assolutamente se preferite avere dei video come quelli della fase della cellula ovvero vari spezzoni della fase con un commento sopra oppure avere proprio un vero e proprio gameplay in live dove giochiamo insieme diciamo è un let's play quindi ragazzi il video anche questo video sta finendo come vi ho detto l'altra volta spero veramente che vi sia piaciuto perché mi sono impegnato appunto è la terza volta che registro questo commentary grazie alla mia incuria quindi ragazzi spero che questo appunto lo ripeto che questo video vi sia piaciuto da Pasquist è tutto tanta guagna per tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti